il segretario di missionario io sindaco cosa bellissima ma faccio governatore quello che mi ha dato fastidio è che tutti insieme abbiamo voluto il governo conte tutti abbiamo voluto che andasse avanti tutto il partito ha deciso insieme io ci ho messo la faccia poi quando non è andato in porto ci siamo girati e non c'era nessuno e ci hanno accusato di avere detto conte o morte cosa che io non ho mai detto lo ha detto nicola zingaretti a non è la d'urso live su canale 5 a proposito dei motivi che lo hanno spinto alle dimissioni da segretario del pd confermo dimissioni ma non scompaio ma sì il pd non è un partito del leader ma con un leader noi siamo tanti domani rinnovo la tessera del pd non scompaio con le mie idee noi resteremo a fare politica con le nostre idee così nicola zingaretti ha risposto alla domanda di barbara d'urso se conferma le dimissioni da segretario del pd zingaretti e ospite a non è la d'urso live su canale 5 pluralismo idee non diventi furbizia credo nel pluralismo del confronto ma lo si è scambiato con la polemica allora ho detto se io sono il problema allora mi faccio di lato perché serve un chiarimento lo faccia il gruppo dirigente state tranquilli che non scompaio ma non si deve confondere il confronto delle idee con la furbizia ora però guardiamo al futuro lo ha detto nicola zingaretti a non è la d'urso live su canale 5 a proposito dei motivi che lo hanno spinto a dimettersi dalla segreteria del pd grazie a tutti grazie a tutti